ciao a tutti ragazzi buongiorno buon 29 di dicembre a tutti siete pronti per capodanno spero proprio di sì spero che possiate stare bene perché vedo che i numeri dei contagi in italia sono tremendi e quindi incrocio le dita anche per voi affinché possa andare tutto liscio per festeggiare insieme l'addio di questo 2021 ieri sul mio canale youtube ho portato un'analisi tattica e statistica ve la lascio qui sopra nelle schede e ho riassunto un po tutte le partite che ha fatto la juventus sul finire della stagione stagione della prima parte di stagione della diciannovesima giornata di serie a quindi andando al contrario come un gambero e guardando le ultime partite che sono state giocate e confrontando la juve a livello statistico con le altre squadre le prime sei della classe epica di serie a dopo aver visto quel video e dopo aver lasciato mi piace a questo vi chiedo veramente è il 29 di dicembre vi chiedo 2900 like facciamo questo giochino diventa interessante non è cavolata ovviamente però i mi piace sono sempre un metodo un metro di supporto incredibile per il canale vi chiedo di lasciarne tanti se vorrete vedere oggi pomeriggio il video in cui vi parlo dei miei due corsi di match analysis perché il video di ieri che ho pubblicato è tipo il terzo il quarto che pubblico sulla match analysis ma voglio anche spiegarvi esattamente che cos'è che cosa ho fatto se ci siete tutti se siete tutti pronti vi chiedo di scaricare one football il link qui sotto in descrizione c'è pure la felpa di one football oggi quindi proprio siamo perfetti per avere gratis un'applicazione che ci dirà alla fine qual è il calciatore che arriverà alla juventus perché se ne è parlato tanto e quindi sicuramente qualcosa si farà bisogna vedere chi e come parto subito da un nome che è uscito di recente che ho letto appunto su one football che è quello di la casette anche la casette aggiungiamo pure la casette mi sembra di essere tornato ad anni e anni fa quando in ogni sessione di mercato la juventus venivano accostati determinati giocatori ripetizione gillardino c'era sempre gillardino cioè gillardino doveva essere un giocatore juventus ogni tra per due incredibile tevez che poi effettivamente arrivato aghero perché era un altro di quelli che girava van persi che poi ha avuto anche dei contatti molto vicini con la juve gecko gecko una roba assurda incredibile gecko è stato vicino a juventus quando era al walsburg quando era al city quando era la roma più volte quando era la roma quindi veramente gecko era destino che non diventasse mai un giocatore da juventus ma questi erano nomi di attaccanti che circolavano sempre tornavano sempre fuori a questo punto possiamo aggiungerci i cardi perché i cardi mi sembra un po come pogba al discorso legato al torna pogba uguale arriva i cardi identico ormai spiaccicato mettiamoci dentro pure la casette che è un altro che tante volte ci siamo ritrovati a leggere commentare ma dai su ragazzi siamo seri per cortesia lasciamolo stare la casette parliamo invece di Gianluca Scamacca che è il nome del momento è chiacchieratissimo e tutti tutti gli organi di informazioni principali che si occupano il calcio mercato stanno iniziando a parlare tanto Gianluca Scamacca questo potrebbe essere un indice potrebbe davvero essere Scamacca o niente il calciatore che la juventus avrebbe individuato come punta da prendere a gennaio c'è da fare due passi indietro arriva bene arriva bene fa due interviste conferenze stampa pre partita molto interessanti la prima una sveglia così che parte a caso la prima in cui dice che non ci sono soldi che la juventus non ha soldi e che quindi dovrà fare di necessità virtù lì ci credo ci credo tanto la seconda nella quale dice che comunque dato che non ci sono soldi la juventus starà così sono a posto così la rosa non verrà ritoccata durante il calcio mercato invernale non sarà protagonista la juve anzi sono a posto così e anche qua c'è da dire che sono d'accordo a metà cioè la prima parte è vera non ci sono soldi riprendendo la conferenza precedente la seconda si rimane così a posto così no non è vera e quindi è ovvio che ci serve qualche attaccante ci serve un giocatore là davanti lo stiamo vedendo anche un po nei dati che stiamo analizzando qua sul canale con tutte le partite tutte le le statistiche che abbiamo preso in considerazione tutti i gol che stiamo segnando e dato che la juventus è una squadra che gioca molto per vie esterne e che ama poi crossare al centro per fare gol gialluca scamacca è il profilo ideale sotto l'aspetto tecnico perché perché è un marcantonio di quasi due metri di quasi 90 chili giocatore abilissimo a far salire la squadra a mettere giù col petto a fare sportellate a spezzare le testa proteggere il pallone far respirare la squadra io la prima volta che ho visto giocare scamacca era contro la juventus quindi juventus genua forse addirittura in coppa italia la partita il gol di raffia forse è stata quella lì potrebbe o in campionato comunque quell'anno lì l'anno scorso compirlo molto prima di gennaio forse allora forse non era coppa italia però mi ricordo non mi ricordo la data il giorno ma ricordo di aver pensato a sto punto prendiamo scamacca a gennaio perché mi aveva impressionato per forza fisica per come proteggeva il pallone per come andava a fare la lotta con i nostri centrali che sono molto infisicati e quindi ho proprio detto questo è un giocatore che ci manca all'interno rosa andiamo a prenderlo quando poi mi hanno detto è sì costa 25 milioni con obbligo di riscatto proprio pensato vabbè tutto il rispetto per scamacca io voglio molto bene però che se ne rimanga lì quest'anno addirittura aumentato di 15 milioni sassuolo è bravo è carnevali è bravissimo e io ricordo un'estate intera passata inseguire manue locatelli con il sassuolo che non si muoveva di una virgola dal prezzo predefinito di 38 milioni di euro 40 milioni di euro forse qualcosa di più addirittura sassuolo è bravo sassuolo è bravo a vendere carnevali è bravo a vendere sanno valorizzare i giocatori sanno trattare con le altre squadre e prenderli per il collo però mi chiedo perché la juventus chiede qualsiasi giocatore del sassuolo costa 40 milioni l'atalanta chiede bogà ne costa 22 questo proprio non riesco a spiegarmelo non ce la faccio cioè tutti i giocatori che noi chiediamo a qualsiasi squadra costano 40 milioni di euro poi mi piace presidente del baier monaco che dice ho visto i conti della juventus mi meraviglio noi con germania siamo tutti perfetti e per forza tutti i giocatori e te vanno in scadenza e le altre squadre o per non darteli in scadenza te li danno un tozzo di pane da noi costano tutti 40 milioni di euro siamo bravi tutti ad avere i conti a posto in quel modo bravo complimentoni però va bene questo è un discorso a parte io mi concentro un attimo sul nome di gialluca scamacca e vi dico che va analizzato da diverse prospettive e cioè quella tecnica l'abbiamo detto prima sì è un calciatore che manca nella rosario di vento se manca da tanti anni da tanti anni quindi sì per il punto di vista tecnico punto di vista economico secondo me scamacca non vale 40 milioni mai nella vita ma mai ma non si avvicina nemmeno e questo è anche dato dal fatto che il sassuolo magari a gennaio non vorrebbe cederlo lo sappiamo che un giocatore nel mercato di gennaio se si muove valore di mercato più elevato proprio perché a gennaio dove di solito si fanno degli acquistini così quindi il vento si serve scamacca ti serve l'attaccante vuoi lui costa di più c'è poco da fare costa di più poi per livello scamacca è l'ideale no no perché lo scamacca di oggi quello di oggi quindi quello che va da gennaio 2022 giugno 2022 per la juventus non è l'attaccante giusto cioè immaginatevi oggi andare in champions league con scamacca prima punta titolare non ci sta ad oggi scamacca non è di quel livello lì lo diventerà probabilmente sì immagino di sì si parla molto bene di lui se la juventus come detto nell'altro video è convinta ma veramente sicura al 100% che scamacca sarà il prossimo attaccante titolare della juventus della nazionale italiana perché ha delle caratteristiche uniche tecniche che ci vada a occhi chiusi 40 milioni se lo porti a casa anche stasera così potrà già iniziare ad allenarsi per la sfida al napoli che apro parentesi non c'è motivo di rinviare ne abbiamo parlato anche un po su twitter e così però io dall'altra parte penso sempre a moise ken ma perché è stato acquistato moise ken allora per quale diavolo di motivo perché avevi una paura fottuta di non trovare nessun altro in tre giorni dopo l'addio di ronaldo perché io tutte le volte spero che non sia effettivamente obbligo di riscatto per moise ken perché pensare di spendere 40 milioni per questo moise ken un pochino mi dà fastidio e pensare che scamacca vale gli stessi soldi e che la juventus stia facendo un po lo stesso ragionamento attaccante giovane non c'è il campionato che potrebbe io forse in questo momento adesso un profilo più sicuro in termini di gol perché poi non sai scamacca che attaccante diventerà sotto il profilo della realizzazione a noi oggi serve uno che ti faccia 20 25 forse anche 30 qua esageriamo però almeno 20 25 gol in campionato l'attaccante titolare della juventus si deve fare scamacca è in grado di fare questo sotto il profilo della finalizzazione secondo me è tutto da scoprire a maggior ragione in una grande squadra poi è vero che la juventus gioca molto di cross gioca molto sugli esterni gioca a buttare la palla dentro quindi scamacca si trova su agio no però non lo so non so che cosa potrà diventare mi auguro di sì dall'altra parte io penso alle liste perché è ovvio che se avevamo troppi giocatori prima di scamacca ora parliamo di scamacca perché sempre lui no il giocatore che la juventus prenderà attaccanti focalizziamoci su attaccanti dibala e caio horge che sono meno male i due che giocano in rifinitura nel 4 2 3 1 caio tra l'altro non è nemmeno in lista champions perché non c'era spazio che è il morata e scamacca che diventano a tutti gli effetti le tre prime punte della juventus chiesa bernardeschi culuseschi e quadrado che sono i quattro esterni perché giochiamo col 4 3 3 o col 4 2 3 1 quindi questi sono bene o male i giocatori d'attacco caio non sarà ancora lista champions con l'arrivo di scamacca e ne deve partire un altro perché se no semplicemente qua intanto soldi non ce ne sono e poi l'arrivo di lista se complica qualcosa soldi non ce ne sono chi potrebbe portarti dei soldi culuseschi che piace a paratici potrebbe andare al tottenham il tottenham potrebbe preparare un offerto comunque una squadra inglese il tottenham è sempre lì perché paratici a questa a questo feticismo nei confronti di culuseschi ce l'aveva portato anche a noi però in inghilterra piace molto culuseschi e la juventus potrebbe cedere a gennaio per ricavare i soldi per arrivare a scamacca però poi capisci che si libera un buco a livello di esterni ti serve qualcun altro da ficcare esterno e rimarresti con chiesa con bernardeschi e con quadrado aggiungo il fatto che poi in realtà bernardeschi va pure in scadenza quindi l'anno prossimo avresti solo chiese quadrado di esterni se c'è di culuseschi adesso non rinnovi bernardeschi allo stesso modo poi scamacca andrà a prendere il posto di morata che non verrà riscattato dall'atletico e quindi l'anno prossimo ti ritroverai con dibala caio ken e scamacca che occupa le posizioni dei quattro attaccanti centrali due seconde punte due prime punte per quanto che non sia esattamente una prima punta perfetta chiesa quadrado come esterni e basta quindi dopo dovresti andare sul mercato a cercare delle esterne ma questo è sempre il discorso secondo il quale la juventus non è costruita bene è costruita non in maniera eccelsa e allora qua mi parte l'illazione no se arriva scamacca di bala dato che si sta rinnovando di bala ci sono dei problemi quello che volete adesso io non voglio entrare nel merito perché parlare sempre del nuovo di di bala sinceramente in rottura di maroni ormai sapete bene tutto quello che penso il nuovo di di bala non starò qua a portare video tutti i giorni per ogni minima virgola che si sposta però di bala scamacca chiesa che non sia chiesa sulla sinistra di bala sulla destra per dare la possibilità anche a quadrado di fare il terzino andare in sovrapposizione e quindi cambio di ruolo per paolo di bala esterno a destra nel 4-3-3 nel tridente come era stato già provato da allegri nel primo tempo contro l'atlanta dove di bala aveva giocato anche una buona partita perché di bala non è un finalizzatore non è un giocatore che sta lì la maggior ragione è se ci metti scamacca che va a fare sportellate libera lo spazio sia per chiesa che per di bala e quindi di bala potrebbe diventare anche una specie di esterno destro quindi andare a prendere il posto di kuluseschi il 4-3-3 potrebbe diventare il modulo di riferimento che tra l'altro è stato quello adottato da allegri nelle ultime partite proprio senza di bala bernardeschi diventerebbe la riserva perfetta di federico chiesa ken potrebbe giocare indistintamente in tutti e tre i posti dell'attacco perché l'abbiamo visto andare dappertutto stessa cosa vale per morata che alla fine diventerebbe poi anche il vice scamacca e caio continuerebbe il suo percorso di crescita all'interno della juve andando a giocare qualche minuto di tanto in tanto perché maggior ragione se arriva un altro attaccante già caio non ha avuto minuti immagino che verranno ridotti ancora di più quindi o caio va in prestito e potrebbe pure starci dato che potrebbe arrivare un altro attaccante per non veramente obbligarlo a guardare tutte le partite poverino io ci starei e non faresti niente a livello di lista champions perché lui è già fuori ma per scamacca per inserire scamacca dovresti cedere uno e quindi quell'uno potrebbe essere kuluseschi tutte le azioni eh tutte robe buttate lì per farvi capire che come attaccante per caratteristiche grande si scamacca come prezzo grande no come futuro no come lungimiranza probabilmente sì perché comunque le caratteristiche ce le può avere come effetto immediato invece faccio un po fatica a capire come scamacca possa regalarci dieci gol in maglia juve solo in campionato e di come possa eventualmente affrontare una champions league da titolare poi i giovani sono fatti così cioè i giovani li prendi e non vedi frutti adesso li vedi fra 8 anni quindi nel caso molto bene ce lo faremo andare bene diventerà una roba fatta bene nell'immediato però è quello che vi dicevo prima prima gli altri giorni se devo scegliere tra i cardi e scamacca obbligo di riscatto entrambi intorno ai 35 40 milioni non ci penso due volte prendo scamacca per il domani perché per il domani quei 40 milioni li investo più renti né rispetto per i cardi se oggi invece ho la possibilità di prendere un'altra scamacca e i cardi in prestito secco per sei mesi scelgo mauricardi e poi quest'estate con calma ragiono sull'attaccante se invece loro hanno già deciso che scamacca è l'attaccante che vogliono chi sono io per dirvi no ma fatemi sapere le vostre anche qui sotto nei commenti io qualche perplessità per scamacca ce l'ho e soprattutto per il prezzo che si porta dietro scamacca perché già non ci sono soldi se poi 40 milioni di qua 40 milioni di là 38 di qua questo obbligo di riscatto questo te lo pago rischi poi di creare un vortice all'interno del tuo bilancio che ti impedirà di fare dei mercati successivamente ma questa è la mia opinione voglio sapere la vostra ci vediamo oggi pomeriggio mi piace questo video con il video scusate la ripetizione del corso di match analyst che ho seguito grazie a tutti grazie a tutti